Spruzza questo in casa tua e un'ora dopo non vedrai mai più zanzare. Dopo aver provato questa ricetta, vedrai un notevole miglioramento. Ora annota gli ingredienti. 2 cucchiai di chiodi di garofano 2 foglie di alloro 1 tazza di aceto di vino bianco 1 bicchiere d'acqua Andiamo con il procedimento. Mettere l'acqua in una pentola, aggiungere i chiodi di garofano e le foglie di alloro e far bollire per 10 minuti. Lascia che si raffreddi. Filtratelo, aggiungete l'aceto bianco e mescolate bene. Metti la soluzione in un flacone spray ed è pronta per l'uso. Dal momento che odora di chiodi di garofano, puoi usare questa miscela per pulire il tavolo da pranzo. Il pavimento, i ripiani, il divano e anche le finestre. Ciò manterrà le zanzare lontane dalla tua casa.